Musica Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Prosegue il percorso artistico del nodo insolito. A Monselice si è svolta nella storica Villa Pisani la seconda esposizione collettiva. Il Cenacolo, composto da Claudio Cenci, pittore, Feliciano Dalprà, scultore, Ferruzzo Dallaglio, fotografo e Florio Pozza, scultore della luce e gestito dal curatore artistico Gianluigi Bonfante, ha mostrato al pubblico una cinquantina di opere della loro produzione. Molte le domande e l'interesse dimostrato dal pubblico presente all'inaugurazione. La mostra sarà visitabile dal 22 al 30 maggio 2010 e si trasferirà poi a Montagnana fra giugno e luglio. Maggiori informazioni e tutte le foto sono reperibili sulla pagina Facebook Nodo Insolito. Musica 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 Grazie a tutti.